Grazie Mauro Michelon. Buongiorno a tutti. Il mio intervento riguarda la materia dell'immigrazione. Io proporrei, se è ancora possibile, di fare un'aggiunta, perché qui abbiamo parlato di clandestini, ma non parliamo degli stranieri che sono venuti qui con il permesso di soggiorno per lavorare. Da 2008 a oggi la crisi economica ha colpito tutto, ha colpito anche loro, ma a me risulta che le questure continuino a dare il rinnovo di permesso di soggiorno anche a cittadini stranieri che hanno perso il lavoro da un anno, da un anno e mezzo. Credo che questo non sia inaccettabile. Forse sarebbe bene che quando la questura rinnova il permesso, chiami un rappresentante del Comune per sapere se questo è già sentito dal Comune, se ha chiesto buona scuola dal Comune, perché non è possibile che il Comune si trovi già con le distezze a dover subire questo, perché alla fine ci scrive il Prefetto, ci arrivano segnalazioni e questo è un caso. Secondo caso, le donne straniere abbandonate dai loro uomini si presentano nei Comuni con tre figli. Non è possibile che il Comune si debba accollare questo fatto per 10-15 anni, mantenere queste famiglie. Se la moglie è venuta in Italia con il marito per la ricongiuzione familiare, non ha più sostentamento, devono tornare a casa loro. Io mi rendo conto che parliamo... Mi rendo conto che il problema è delicato perché parliamo di minori. Però io, sottolineo, parlo di chi ha il permesso di soggiorno, non la carta di soggiorno, che sono gli stranieri, che sono più da 10 anni in Italia, che hanno sempre lavorato. E forse, ripeto, facciamo in modo che anche il Comune possa dire la sua rispetto ai cittadini che abitano, che sono residenti nel suo Comune. Un'altra questione, non è possibile vedere stranieri che arrivano con i permessi di soggiorno rilasciati al Sud e arrivano in Comune del Nord e dicono «Chi tirare è stato permesso di soggiorno? Comune di Avellino?» Ma allora, se questo è il permesso di soggiorno, si evince che aveva un lavoro lì, perché se non si sa come ha avuto permesso, puntualmente arrivano al Nord. E anche qui forse è ben chiarissi che chi rilascia il permesso di soggiorno, almeno questi debbano restare in quel Comune tutto il periodo che hanno il permesso di soggiorno. Perché questi sono i problemi. Io, i clandestini sono un grosso problema, ma noi dobbiamo affrontare anche il problema degli stranieri che abbiamo già col permesso e che li viene rinnovato sistematicamente anche se non hanno più i loro diritti. Ecco, questo non è razzismo o egoismo. Questo è rispetto delle regole. Loro sono venuti in Italia sapendo che devono venire qui per lavorare. Se non c'è lavoro, purtroppo tornano a casa loro. Gli paghiamo anche il biglietto, gli diamo anche un contributo. Però devono tornare a casa loro. Grazie.